Nell'insegnamento di questo sport che tutti quanti noi amiamo appunto che abbiamo avuto la pazienza di ascoltarmi per noi un quarto, sempre nello stesso modo i risultati che siamo destinati a ottenere sono quelli che stiamo vedendo adesso, cioè la terza, un quarto, una situazione consecutiva dove non arriviamo al primo per noi, che è un po' lo specchio del movimento. Poi c'è un enorme discorso da fare sul fatto che manca un campionato di formazione perché a livello del 18 aveva un secondo nel mondo e poi devono giocare i professionisti e i professionisti mangiano vivi, ma questo è un discorso più da dirigenti che da te. Voi capite che come abbiamo fatto fino adesso mi pare palese che non vada, che non vada, che non funziona. Voi capite che se tutti accettano che non vada, abbiamo la speranza di cambiare qualcosa, se no fra 8-10 anni faremo gli europei quelli di Malta.